Ha dedicato un'attenzione particolare al terremoto e non poteva essere diversamente a due anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la quarta edizione di Expo Emergenze, fiera biennale organizzata da Eptacomf Commercio Umbria e Umbria Fieri di Bastia Umbra. Expo Emergenze è un bel evento, è un bel evento per il sociale, è un bel evento per tutto quello che riguarda la sicurezza, siamo estremamente soddisfatti di questa cosa, dicevo prima che questo evento per noi, Eptacomf Commercio, è un evento di servizio, non è un evento commerciale come facciamo quegli altri e siamo contenti di farlo perché la regione ce lo chiede, la protezione civile ce lo chiede e siccome tante volte, l'ho detto, tante di quelle volte, che Comf Commercio non è solo commercio, non è solo vendita, non è solo profitto, ma è anche solidarietà, è anche sociale e anche cultura. La manifestazione vuole contribuire in modo concreto alla diffusione della cultura della prevenzione del rischio non solo attraverso l'esposizione ma anche con eventi, convegni e sessioni formative in ambito di prevenzione, emergenza e gestione del post-emergenza. E' una fiera per operatori ma deve essere anche una fiera che dà messaggi, educazione e cultura anche ai normali visitatori, tutti noi cittadini, insomma questa è l'importanza. Ancora una volta il centro fioristico dimostra di poter proporre delle iniziative che non sono solo fiere a livello commerciale. Expo Emergenza è stato anche luogo di confronto tra professionisti del soccorso, cittadini e istituzioni. Ci siamo allenati nella gestione di emergenze che periodicamente sono avvenute in questi ultimi anni. Lo abbiamo fatto con una forte collaborazione fra le strutture pubbliche e con il coinvolgimento anche dell'associazionismo e del volontariato. Tutti insieme sono coordinati per fronteggiare queste difficoltà, anche da ultimo. Lo abbiamo fatto nell'emergenza del terremoto del 2016. Tra le aziende presenti è anche Alessandrelli Centrocasa che da oltre 20 anni partecipa agli eventi proposti da Epta e che nel campo dell'emergenza è in grado di offrire importanti soluzioni per il ristoro. Si va dal gazebo di emergenza professionale ai tavoli sempre professionali per utilizzo sia recreativo sia di emergenza ma anche a tutte quelle che sono le necessità ristorative e di accoglienza che purtroppo si verificano in quelle ore e quindi vanno applicati tutti una serie di accorgimenti che possono essere dal giusto contenitore termico al giusto accessorio per la cucina e soprattutto il giusto oggetto per il trasporto.